Giosuè capitolo primo Nessuno ti potrà stare a fronte tutti i giorni della tua vita, come sono stato con Mosè, così sarò teco. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e fatti animo, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare ad essi. Solo sii forte e fatti risolutamente animo, avendo cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, t'ha data, non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che v'è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e fatti animo, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà teco, ovunque andrai. Allora Giosuè diede quest'ordine agli ufficiali del popolo, passate per mezzo al campo e date quest'ordine al popolo, preparatevi dei viveri, perché di qui a tre giorni passerete questo Giordano per andare a conquistare il paese che l'Eterno, il vostro Dio, vi dà, perché lo possediate. Giosuè parlò pure ai rubeniti, ai gaditi e alla mezza tribù di Menasse, e disse loro, Ricordatevi dell'ordine che Mosè, servo dell'Eterno, vi dette quando vi disse, l'Eterno, il vostro Dio, vi ha concesso requi e vi ha dato questo paese. Le vostre mogli, i vostri piccini, il vostro bestiame, rimarranno nel paese che Mosè vi ha dato di qua dal Giordano. Ma voi tutti, che siete forti e valorosi, passerete in armi alla testa dei vostri fratelli, e li aiuterete, finché l'Eterno abbia concesso requi ai vostri fratelli come a voi, e siano anch'essi in possesso del paese che l'Eterno, il vostro Dio, dà a loro. Poi tornerete al paese che vi appartiene, il quale Mosè, servo dell'Eterno, vi ha dato di qua dal Giordano verso il Levante, e ne prenderete possesso. E quelli risposero a Giosuè, dicendo, Noi faremo tutto quello che ci hai comandato, e andremo dovunque ci manderai. Ti ubbidiremo interamente, come abbiamo ubbidito a Mosè. Solamente sia te, con l'Eterno, il tuo Dio, come è stato con Mosè. Chiunque sarà ribelle ai tuoi ordini e non ubbidirà alle tue parole, qualunque sia la cosa che gli comanderai, sarà messo a morte. Solo sii forte, e fatti animo. Giosuè, capitolo secondo Or Giosuè, figliuolo di Nun, mandò segretamente da Sitindue spie, dicendo, Andate, esaminate il paese e Gerico. E quelle andarono ed entrarono in casa di una meretrice per nome Rahab, e qui vi alloggiarono. La cosa fu riferita al re di Gerico, e gli fu detto, Ecco, certi uomini di tre figliuoli di Israele sono venuti qui stanotte per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Rahab, Fa uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il paese. Ma la donna prese quei due uomini, li nascose, e disse, E' vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma io non sapevo donde fossero. E quando si stava per chiudere la porta sul far della notte, quegli uomini sono usciti, dove siano andati non lo so, rincorreteli senza perder tempo e li raggiungerete. Or essa li aveva fatti salire sul tetto, e li aveva nascosti sotto del lino non ancora gramolato, che aveva disteso sul tetto. E la gente le rincorse per la via che mena ai guadi del Giordano, e non appena quelli che le rincorrevano furono usciti, la porta fu chiusa. Or prima che le spie si addormentassero, Rahab salì da loro sul tetto, e disse a quegli uomini, Io so che l'Eterno vi è dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi, e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi, poiché noi abbiamo udito come l'Eterno asciugò le acque del Mar Rosso dinanzi a voi quando usciste dall'Egitto, e quel che faceste ai due re degli amorei di là dal Giordano, Sion e Nog, che votaste allo sterminio, e non appena abbiamo udito, il nostro cuore si è strutto e non è più rimasto coraggio in alcuno per via di voi, poiché l'Eterno, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Or dunque vi prego, giuratemi per l'Eterno, giacché io vi ho trattati con bontà, che anche voi tratterete con bontà la casa di mio padre, e datemi un pegno sicuro che salverete la vita a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle, e a tutti i loro che ci presenterete dalla morte. E quegli uomini risposero, Siamo pronti a dare la nostra vita per voi, se non divulgate questo nostro affare, e quando l'Eterno ci avrà dato il paese, noi ti tratteremo con bontà e lealtà. Allora ella li calò giù dalla finestra con una fune, poiché la sua abitazione era addossata alle mura della città, ed ella stava di casa sulle mura, e disse loro, Andate verso il monte affinché quelli che vi rincorrono non vi incontrino, e nascondetevi qui per tre giorni fino al ritorno di coloro che vi inseguono, poi ve ne andrete per la vostra strada. E quegli uomini le dissero, Noi saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare, se tu non osservi quello che stiamo per dirti. Ecco, quando entreremo nel paese, attaccherai alla finestra per la quale ci fai scendere questa cordicella di filo scarlato, e radunerai presso di te, in casa, tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli, e tutta la famiglia di tuo padre. E se alcuno di questi uscirà in strada dalla porta di casa tua, il suo sangue ricadrà sul suo capo, e noi non ne avremo in colpa, ma il sangue di chiunque sarà teco in casa ricadrà sul nostro capo, se uno gli metterà le mani addosso. E se tu divulghi questo nostro affare, saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare, e della di sé, Sia come dite. Poi li accomietò, e quelli se ne andarono, ed essi attaccò la cordicella scarlata alla finestra. Quelli dunque partirono, e se ne andarono al monte, dove rimasero tre giorni, fino al ritorno di quelli che li rincorrevano, e quale lì cercarono per tutta la strada, ma non li trovarono. E quei due uomini ritornarono, scesero dal monte, passarono il Giordano, vennero a Giosuè, figliuolo di Nun, e gli raccontarono tutto quello che era loro successo, e dissele a Giosuè, Certo l'Eterno ha dato in nostra mano tutto il paese, e già tutti gli abitanti del paese han perso coraggio dinanzi a noi. Giosuè, capitolo terzo E Giosuè si levò la mattina di buon'ora con tutti i figliuoli di Israele, partì da Sitim, essi arrivarono a Giordano, e qui vi fecero alto prima di passarlo. In capo a tre giorni, gli ufficiali percorsero il campo, e dettero quest'ordine al popolo. Quando vedrete l'arca del patto dell'Eterno che il vostro Dio portate dai sacerdoti levitici partire dal luogo dove siete accampati, andrete dietro ad essa. Però vi sarà tra voi e l'arca alla distanza ad un tratto di circa duemila cubiti. Non vi accostate ad essa, affinché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare, poiché non siete ancora mai passati per questa via. E Giosuè disse al popolo, santificatevi, poiché domani l'Eterno farà delle meraviglie in mezzo a voi. Poi Giosuè parlò ai sacerdoti dicendo, prendete in spalla l'arca del patto e passate davanti al popolo, ed essi presero in spalla l'arca del patto e camminarono davanti al popolo, e l'Eterno disse a Giosuè, oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, affinché riconoscano che, come fui con Mosè, così sarò con te. E tu dai sacerdoti che portano l'arca del patto quest'ordine. Quando sarete giunti alla riva delle acque del Giordano, vi fermerete nel Giordano. E Giosuè disse ai figlioli di Israele, Fatevi da presso, e ascoltate le parole dell'Eterno del vostro Dio. Poi Giosuè disse, Da questo riconoscerete che l'Iddio vivente è in mezzo a voi, e che egli caccerà certamente dinanzi a voi i Cananei, gli Ittei, gli Ivei, i Feresei, i Girgasei, gli Amorei e i Gesubiti. Ecco, l'arca del patto del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi per entrare nel Giordano. Ordunque, prendete dodici uomini fra le tribù di Israele, uno per tribù. E avverrà, che non appena i sacerdoti recanti l'arca del patto del Signore di tutta la terra, avranno posato le piante dei piedi nelle acque del Giordano, le acque del Giordano che scendano d'insù saranno tagliate e si fermeranno in un mucchio. E avvenne, che quando il popolo fu uscito dalle sue tende per passare il Giordano, avendo dinanzi a lui i sacerdoti che portavano l'arca del patto, appena quelli che portavano l'arca giunsero al Giordano e i sacerdoti che portavano l'arca ebbero tuffati i piedi nell'acqua della riva, il Giordano straripava da tutto durante il tempo della messe, le acque che scendevano d'insù si fermarono e si elevarono in un mucchio, a una grandissima distanza, fino presso la città di Adan, che è al lato di Zartan, e quelle che scendevano verso il mare nella pianura, il mar salato, furono interamente separate da esse. E il popolo passò di rimpetto a Gerico, e i sacerdoti che portavano l'arca del patto dell'Eterno stettero a pie fermo nell'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele passava per l'asciutto, finché tutta la nazione ebbe finito di passare il Giordano. Giosuè, capitolo quarto Or, quando tutta la nazione ebbe finito di passare il Giordano, l'Eterno aveva parlato a Giosuè, dicendo, «Prendete tra il popolo dodici uomini, uno per tribù, e date loro quest'ordine. Pigliate di qui, di mezzo al Giordano, dal luogo dove i sacerdoti sono stati a pie fermo dodici pietre, portatele con voi di là dal fiume, e collocatele nel luogo dove accamperete stanotte». Giosuè chiamò i dodici uomini che aveva disegnati tra i figlioli di Israele un uomo per tribù e disse loro, «Passate davanti all'arca dell'Eterno del vostro Dio in mezzo al Giordano, e ognuno di voi tolga in spalla una pietra secondo il numero delle tribù dei figlioli di Israele, affinché questo sia un segno in mezzo a voi. Quando, in avvenire, i vostri figlioli vi domanderanno «Che significan per voi queste pietre?» Voi risponderete loro, «Le acque del Giordano furono tagliate dinnanzi all'arca del patto dell'Eterno, quando essa passò il Giordano, le acque del Giordano furono tagliate, e queste pietre sono per i figlioli di Israele una ricordanza in perpetuo». I figlioli di Israele fecero dunque come Giosuè aveva ordinato, presero dodici pietre di mezzo al Giordano, come l'Eterno aveva detto a Giosuè secondo il numero delle tribù dei figlioli di Israele, le portarono con loro di là dal fiume nel luogo dove dovevano passare la notte e qui vi le collocarono. Giosuè rizzò pure dodici pietre in mezzo al Giordano nel luogo dove s'erano fermati i piedi dei sacerdoti che portavano l'arco del patto e vi sono rimaste fino al dì d'oggi. I sacerdoti che portavano l'arca rimasero fermi in mezzo al Giordano finché tutto quello che l'Eterno aveva comandato a Giosuè di dire al popolo fosse eseguito conformemente agli ordini che Mosè aveva dato a Giosuè e il popolo si affrettò a passare. Quando tutto il popolo ebbe finito di passare, l'arca dell'Eterno coi sacerdoti passò anch'essa in presenza del popolo e i figlioli di Ruben i figlioli di Gad e mezzo alla tribù di Menasse passarono in armi davanti ai figlioli di Israele come Mosè aveva loro ordinato. Circa quarantamila uomini pronti di tutto punto per la guerra passarono davanti all'Eterno nelle pianure di Gerico per andare a combattere. In quel giorno l'Eterno rese grande Giosuè agli occhi di tutto Israele ed essi lo temettero come avevano temuto Mosè tutti i giorni della sua vita or l'Eterno parlò a Giosuè e gli disse ordina ai sacerdoti che portano l'arca della testimonianza di uscire dal Giordano. Giosuè diede quest'ordine ai sacerdoti uscite dal Giordano e avvenne che come i sacerdoti che portavano l'arca del patto dell'Eterno furono usciti di mezzo al Giordano e le piante dei loro piedi si furono alzate posate sull'asciutto le acque del Giordano tornarono al loro posto e strariparono dappertutto come prima. Il popolo uscì dal Giordano il decimo giorno del primo mese e si accampò a Gilgal all'estremità orientale di Gerico e Giosuè rizzò in Gilgal le dodici pietre che si avevano prese dal Giordano Poi parlò ai figlioli di Israele e disse loro Quando in avvenire i vostri figlioli domanderanno ai loro padri che significano queste pietre voi lo farete sapere ai vostri figlioli dicendo Israele passò questo Giordano per l'asciutto poiché l'Eterno il vostro Dio ha asciugato le acque del Giordano davanti a voi affinché voi foste passati come l'Eterno il vostro Dio fece al Mar Rosso che li asciugò finché fossimo passati onde tutti i popoli della terra riconoscano che la mano dell'Eterno è potente e voi temiate in ogni tempo l'Eterno il vostro Dio Giosuè capitolo quinto or come tutti i re degli Amorei che erano di là dal Giordano verso Occidente e tutti i re dei Cananei che erano presso al mare udirono che l'Eterno aveva asciugate le acque del Giordano davanti ai figlioli di Israele finché fossero passati il loro cuore si strusse e non rimase più in loro alcun coraggio di fronte ai figlioli di Israele in quel tempo l'Eterno disse a Giosuè fatti dei coltelli di pietra e torna di nuovo a circoncidere i figlioli di Israele e Giosuè si fece dei coltelli di pietra e circoncise i figlioli di Israele sul colle di Aralot questo fu il motivo per cui li circoncise tutti i maschi del popolo usciti dall'Egitto cioè tutti gli uomini di guerra erano morti nel deserto durante il viaggio dopo essere usciti dall'Egitto or tutto questo popolo usciva dall'Egitto ed era circonciso ma tutto il popolo nato nel deserto durante il viaggio dopo l'uscita dall'Egitto non era stato circonciso poiché i figlioli di Israele avevano camminato per quarant'anni nel deserto finché tutta la nazione cioè tutti gli uomini di guerra che erano usciti dall'Egitto furono distrutti perché non avevano ubbidito alla voce dell'Eterno l'Eterno aveva loro giurato che non farebbe loro vedere il paese che aveva promesso con giuramento ai loro padri di darci paese dove scorre il latte e il miele e sostituì ai loro i loro figlioli e questi Giosuelli circoncise perché erano incirconcisi non essendo stati circoncisi durante il viaggio e quando sebbe finito di circoncidere tutta la nazione quelli che rimasero al loro posto nel campo finché fossero guariti e l'Eterno disse a Giosuè oggi vi ho tolto di dosso il vituperio dell'Egitto e quel luogo fu chiamato Gilgal nome che dura fino al di d'oggi e i figlioli di Israele si accamparono a Gilgal celebrarono la Pasqua il quattordicesimo giorno del mese sulla sera nelle pianure di Gerico e l'indomani della Pasqua in quel preciso giorno mangiarono dei prodotti del paese pani azimi e gran arrostito e la manna cessò l'indomani del giorno in cui mangiarono dei prodotti del paese e figlioli di Israele non ebbero più manna ma mangiarono quell'anno stesso del frutto del paese di Cana ora venne come Giosuè era preso a Gerico che gli alzò gli occhi e guardò ed ecco un uomo gli stava ritto davanti con in mano la spada snudata Giosuè che il luogo dove stai è santo e Giosuè fece così Giosuè capitolo sesto or Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figlioli di Israele nessuno ne usciva e nessuno ventrava e l'Eterno disse Giosuè vedi io do in tua mano Gerico il suo re i suoi prodotti guerrieri voi tutti dunque uomini di guerra circuite la città facendone il giro una volta così farai per sei giorni e sette sacerdoti porteranno davanti l'arca sette trompe squillanti il settimo giorno farete il giro della città sette volte e i sacerdoti suoneranno le trombe e avverrà che quando essi suoneranno a distesa il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe tutto il popolo darà in un gran grido e le mura della città crolleranno e il popolo salirà ciascuno diritto dinanzi a sé allora Giosuè figliolo di Nun chiamò i sacerdoti e disse loro prendete l'arca del patto e sette sacerdoti portino sette trombe squillanti davanti all'arca dell'eterno poi disse al popolo andate fate il giro della città e l'avanguardia preceda l'arca dell'eterno quando Giosuè ebbe parlato al popolo i sette sacerdoti che portavano le sette trombe squillanti davanti all'eterno si misero in marcia suonando le trombe e l'arca del patto dell'eterno teneva loro dietro e l'avanguardia marciava davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe e la retroguardia seguiva l'arca durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe or Giosuè aveva dato al popolo quest'ordine non gridate fate che non so dalla vostra voce e non vesca parola di bocca fino al giorno che io vi dirò gridate allora griderete così fece fare all'arca dell'eterno il giro della città una volta poi entrarono nel campo qui vi passarono la notte Giosuè si levò la mattina di buon'ora i sacerdoti presero l'arca dell'eterno i sette sacerdoti che portavano le sette trombe squillanti davanti all'arca dell'eterno s'avanzavano suonando le trombe durante la marcia l'avanguardia li precedeva la retroguardia seguiva l'arca dell'eterno e durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe il secondo giorno circuirono la città una volta poi tornarono al campo così fecero per sei giorni il settimo giorno levatisi la mattina allo spuntare dell'alba fecero sette volte il giro della città in quella stessa maniera solo quel giorno fecero il giro della città sette volte la settima volta come i sacerdoti sonavano le trombe Giosuè disse al popolo gridate perché l'eterno va dato alla città e la città con tutto quel che contiene sarà sacrata all'eterno per essere sterminata come un interdetto solo Rahab la meretrice avrà salva la vita lei e tutti quelli che saranno in casa con lei perché nascose i messaggeri che noi avevamo inviati e voi guardatevi bene da sciocche votate all'interdetto affinché non siate voi stessi votati allo sterminio prendendo qualche cosa di interdetto non rendiate maledetto il campo di Israele gettandovi lo scompiglio ma tutto l'argento l'oro gli oggetti di rame e di ferro saranno consacrati all'eterno e entreranno nel tesoro dell'eterno il popolo dunque gridò e i sacerdoti suonarono le trombe e avvenne che quando il popolo ebbe udito il suono delle trombe diede un gran grido e le mura crollarono il popolo salì nella città ciascuno diritto davanti a sé e si impadronirono della città e votarono allo sterminio tutto ciò che era nella città passandolo a fil di spada uomini donne fanciulli e vecchi e buoi e pecore e asini e Gesù disse ai due uomini che avevano esplorato il paese andate in casa di quella meretrice menatela fuori con tutto ciò che le appartiene come glielo avete giurato e quei giovani che avevano esplorato il paese entrarono nella casa e ne fecero uscire Rahab suo padre sua madre e suoi fratelli e tutto quello che le apparteneva ne fecero uscire anche tutte le famiglie dei suoi e li collocarono fuori del campo di Israele poi i figlioli di Israele diedero fuoco alla città e a tutto quello che conteneva presero soltanto l'argento l'oro gli oggetti di rame e di ferro che misero nel tesoro della casa dell'Eterno ma Rahab la meretrice alla famiglia di suo padre e a tutti i suoi Giosuè lasciò la vita ed l'ha dimorato in mezzo ad Israele fino al Dittoggi perché aveva nascosto i messi che Giosuè aveva mandati ad esplorare Gerico allora Giosuè fece questo giuramento sia maledetto nel cospetto dell'Eterno l'uomo che si leverà a riedificare questa città di Gerico e ne getterà le fondamenta sul suo primogenito e ne rizzerà le porte sul più giovane dei suoi figlioli l'Eterno fu con Giosuè e la fama di lui si sparse per tutto il paese Giosuè capitolo settimo ma i figlioli di Israele commisero un'infedeltà circa l'interdetto poiché Acam figliolo di Carmi figliolo di Zebdai figliolo di Zerac della tribù di Giuda prese dell'interdetto e l'ira dell'Eterno s'accesse contro i figlioli di Israele Giosuè mandò degli uomini da Gerico ad Ai che è vicina a Bethaven a oriente di Beto e disse loro salite ad esplorare il paese e quelli salirono ad esplorarono Ai poi tornarono da Giosuè e gli dissero non occorre che salga tutto il popolo ma salgano due o tremila uomini e sconfiggeremo Ai non stancare tutto il popolo mandandolo là perché quelli sono in pochi così vi salirono un tremila uomini di tra il popolo i quali si dettero alla fuga davanti alla gente di Ai e la gente di Ai ne uccise circa trentasei e li inseguì alla porta fino a Shebarim e li mise in rotta nell'ascesa il cuore del popolo si strusse e divenne come acqua Giosuè si stracciò le vesti e si gettò col viso a terra davanti all'arca dell'Eterno e stette così fino alla sera con gli anziani di Israele e si gettarono della polvere sul capo e Giosuè disse Ai Signore Eterno perché hai tu fatto passare il Giordano a questo popolo per darci in mano degli amorei per farci perire O ci fossimo pur contentati di rimanere di là da Giordano Ahimè Signore che dirò io ora che Israele ha voltato le spalle ai suoi nemici i Cananei e tutti gli abitanti del paese lo verranno a sapere ci avvolgeranno e faranno sparire il nostro nome dalla terra e tu che farai del tuo gran nome e l'Eterno disse Giosuè levati perché ti sei tu così prostrato con la faccia a terra Israele ha peccato essi hanno trasgredito il patto che io avevo loro comandato ad osservare ha perfino preso dell'interdetto l'han perfino rubato ha perfino mentito e l'hanno messo fra i loro bagagli perciò figlioli di Israele non potranno stare a fronte dei loro nemici e volteranno le spalle davanti a loro perché sono divenuti essi stessi interdetti io non sarò più con voi se non distruggerete l'interdetto di mezzo a voi levati santifica al popolo e digli santificatevi perché domani così ha detto l'Eterno l'Idio di Israele o Israele non c'è di interdetto in mezzo a te tu non potrai stare di fronte i tuoi nemici finché non abbiate tolto l'interdetto di mezzo a voi domattina dunque va accosterete tribù per tribù e la tribù che l'Eterno designerà si accosterà famiglia per famiglia e la famiglia che l'Eterno designerà si accosterà casa per casa e la casa che l'Eterno avrà designata si accosterà persona per persona e colui che sarà designato come avendo preso dell'interdetto sarà dato alle fiamme con tutto quello che gli appartiene perché ha trasgredito il patto dell'Eterno e ha commesso un'infamia in Israele Giosuè dunque si levò la mattina di buona ora fece accostare Israele tribù per tribù la tribù di Giuda fu designata poi fece accostare le famiglie di Giuda e la famiglia degli Zerachiti fu designata poi fece accostare la famiglia degli Zerachiti persona per persona e Zabdi fu designato poi fece accostare la casa di Zabdi persona per persona e fu designato Acan figliolo di Carmi figliolo di Zabdi figliolo di Zerach della tribù di Giuda allora Giosuè disse ad Acan figliolo mio da gloria all'Eterno all'Idio di Israele rendigli omaggio e dimmi quello che hai fatto non me lo celare Acan rispose a Giosuè e disse è vero ho peccato contro l'Eterno l'Idio di Israele ed ecco precisamente quello che ho fatto ho veduto fra le spoglie un bel mantello di Cinear duecento sicli d'argento e una verga d'oro del peso di cinquanta sicli ho bramato quelle cose le ho prese ecco sono nascoste in terra in mezzo alla mia tenda e l'argento è sotto allora Giosuè mandò dei messi i quali corsero alla tenda ed ecco che il mantello vera nascosto e l'argento stava sotto essi presero quelle cose di mezzo alla tenda e le portarono a Giosuè e a tutti i figlioli di Israele le deposero davanti all'Eterno e Giosuè e tutto Israele con lui presero a Can figliolo di Zerac l'argento il mantello l'averga d'oro e i suoi figlioli le sue figlioli i suoi bovi i suoi asini le sue pecore la sua tenda e tutto quello che gli apparteneva li fecero salire nella valle di Acor e Giosuè disse perché ci hai così tu conturbati l'Eterno conturbera te in questo giorno e tutto Israele lo lapidò e dopo aver lapidati gli altri dettero tutti alle fiamme poi ammassarono sopra Can un gran mucchio di pietre che dura fino ad oggi e l'Eterno acquetò l'ardente sua ira perciò quel luogo è stato chiamato fino ad oggi la valle di Acor Giosuè capitolo ottavo poi l'Eterno disse a Giosuè non temere e non ti sgomentare prendi te con tutta la gente di guerra levati e sali contro ad Ai guarda io do in tua mano il re di Ai il suo popolo la sua città e il suo paese e tu tratterai Ai e il suo re come hai trattato Gerico e il suo re ne prenderete per voi soltanto il bottino e il bestiame tendi un'imboscata dietro alla città Giosuè dunque con tutta la gente di guerra si levò per salire contro Adai egli scelse trentamila uomini valenti e prodi e li fece partire di notte e diede loro quest'ordine ecco vi fermerete imboscati dietro alla città non vallontanate troppo dalla città e siate tutti pronti io e tutto il popolo che è becco ci accosteremo alla città e quando essi ci usciranno contro come la prima volta ci metteremo in fuga dinanzi a loro essi ci inseguiranno finché noi li abbiamo lungi dalla città perché diranno essi fuggono dinanzi a noi come la prima volta e fuggiremo dinanzi a loro voi allora uscirete dall'imboscata e vi impadronirete della città l'Eterno il vostro Dio la darà in vostra mano e quando avrete preso la città la incendierete farete come ha detto l'Eterno badate bene questo è l'ordine che io v'ho dato così Giosuè li mandò e quelli andarono al luogo dell'imboscata e si fermarono fra Beto e Ai apponente Dai ma Giosuè rimase quella notte in mezzo al popolo e la mattina levatosi di buon'ora passò in rivista del popolo e salì contro Ai egli con gli anziani di Israele alla testa del popolo e tutta la gente di guerra era con lui salì si avvicinò giunse di rimpetto alla città e si accampò a nord di Ai tra lui ed Ai c'era una valle Giosuè prese circa cinquemila uomini coi quali tese un'imboscata fra Beto ed Ai apponente della città e dopo che tutto il popolo ebbe preso campo a nord della città e tese all'imboscata apponente della città Giosuè durante quella notte si spinse avanti in mezzo alla valle quando il re Dai vide questo la gente della città si levò in fretta di buon mattino e il re e tutto il suo popolo uscirono contro Israele per dargli battaglia al punto convenuto al principio della pianura perché il re non sapeva che c'era un'imboscata contro di lui dietro la città allora Giosuè e tutto Israele facendo vista ad essere battuti da quelli si misero in fuga verso il deserto e tutto il popolo che era nella città fu chiamato a raccolta per inseguirli e inseguirono Giosuè e furono tratti lungi dalla città non ci fu un uomo in Ai e in Beto che non uscisse contro a Israele lasciarono la città aperta e inseguirono Israele allora l'Eterno disse a Giosuè stendi verso Ai la lancia che hai in mano perché io sto per dare Ai in tuo potere e Giosuè stese verso la città la lancia che aveva in mano e subito non appena ebbe stesa la mano gli uomini dell'imboscata sorsero dal luogo dove erano entrarono di corse nella città la presero e si affrettarono ad appiccarvi il fuoco e la gente d'Ai volgendosi indietro guardò ed ecco che il fumo della città saliva al cielo e non vi fu per loro alcuna possibilità di fuggire né da una parte né dall'altra perché il popolo che fuggiva verso il deserto si era voltato contro quelli che lo inseguivano e Giosuè e tutto Israele vedendo che quelli dell'imboscata avevano preso la città e che il fumo saliva dalla città tornarono indietro e batterono la gente dai anche gli altri uscirono dalla città contro a loro cosicché furono presi in mezzo da Israele avendo gli uni di qua e gli altri di là e Israele li battee in modo che non ne rimase né superstite né fuggiasco il re Dai lo presero vivo e lo menarono a Giosuè quando Israele ebbe finito di uccidere tutti gli abitanti di Ai nella campagna e nel deserto dove quelli l'avevano inseguito e tutti furono caduti sotto i colpi della spada finché non ne rimase più tutto Israele tornò verso Ai e la mise a fil di spada tutti quelli che cadero in quel giorno fra uomini e donne furono dodici mila vale a dire tutta la gente dai Giosuè non ritirò la mano che aveva stessa con la lancia finché non ebbe sterminato tutti gli abitanti d'Ai Israele prese per sé soltanto il bestiame e il bottino di quella città secondo l'ordine che l'Eterno aveva dato a Giosuè Giosuè arse dunque Ai e la ridusse in perpetuo in un mucchio di rovine come è anche oggi quanto al re Dai la piccò a un albero e ve lo lasciò fino a sera ma al tramonto del sole Giosuè ordinò che il cadavere fosse calato dall'albero e lo gittarono all'ingresso della porta della città e gli ammassarono sopra un gran mucchio di pietre che rimane anche al di d'oggi allora Giosuè edificò un altare all'Eterno all'Idio di Israele sul monte Ebal come Mosè servo dell'Eterno aveva ordinato ai figlioli di Israele e come sta scritto nel libro della legge di Mosè un altare di pietre intatte sulle quali nessuno aveva passato ferro e i figlioli di Israele offrirono su di esso gli olocausti all'Eterno e fecero dei sacrifici di azioni di grazie e là su delle pietre Giosuè scrisse una copia della legge che Mosè aveva scritta in presenza dei figlioli di Israele tutto Israele i suoi anziani i suoi ufficiali i suoi giudici stavano in pie ai due lati dell'arca di rimpetto ai sacerdoti levitici che portavano l'arca del patto dell'Eterno gli stranieri come gli israeliti di nascita a metà dal lato del monte Garazim metà dal lato del monte Eba come Mosè servo dell'Eterno aveva da primo ordinato che si benedisse il popolo di Israele dopo questo Giosuè lese tutte le parole della legge le benedizioni le maledizioni secondo tutto ciò che è scritto nel libro della legge non vi fu parola di tutto quello che Mosè aveva comandato che Giosuè non leggesse in presenza di tutta la radunanza di Israele delle donne dei bambini e degli stranieri che camminavano in mezzo a loro Giosuè capitolo nono or come tutti i re che erano di qua dal Giordano nella contrada montuosa della pianura e lungo tutta la costa del mar grande di rimpetto al Libano l'Oitteo l'Amoreo il Cananeo il Ferazeo l'Oiveo e il Gebuseo ebbero udito queste cose si adunaron tutti assieme di comune accordo per muover guerra Giosuè ad Israele gli abitanti di Gabaon d'accanto loro quando ebbero udito ciò che Giosuè aveva fatto a Gerico e a Dai procedettero con astuzia partirono provvisti di viveri caricarono sui loro asini dei sacchi vecchi dei vecchi otri di vino rotti ricusciti e si misero ai piedi dei calzari vecchi rappezzati e dei vecchi abiti addosso e tutto il pane di cui si erano provvisti era duro e sbriciolato andarono da Giosuè al campo di Gilgal dissero a lui e alla gente di Israele noi veniamo di paese lontano ordunque fate alleanza con noi la gente di Israele rispose a questi i vei forse voi abitate in mezzo a noi come dunque faremo alleanza con voi ma quelli rispossero a Giosuè noi siamo tuoi servi e Gesuè a loro chi siete e donde venite e quelli gli rispossero i tuoi servi vengono da un paese molto lontano tratti dalla fama dell'eterno del tuo dio poiché abbiamo sentito parlare di lui e di tutto quello che ha fatto in Egitto e di tutto quello che ha fatto a Edore degli Amorei al di là del Giordano a Sion re di Eshbon e a Dog re di Basan che abitava a Astaroth i nostri anziani e tutti gli abitanti del nostro paese ci hanno detto prendete con voi delle provviste per il viaggio andate loro incontro e dite noi siamo vostri servi fate dunque alleanza con noi ecco il nostro pane lo prendiamo caldo dalle nostre case come provviste è il giorno che partimmo per venire da voi ed ora eccolo duro e sbriciolato e questi sono gli otri di avino che empimmo tutti nuovi ed eccoli rotti e questi i nostri abiti e i nostri calzari che si sono logorati per la grande lunghezza del viaggio allora la gente d'Israele prese dalle loro provviste e non consultò l'Eterno e Giosuè fece pace con loro e fermò con loro un patto per il quale avrebbe lasciato loro la vita e i capi della radunanza lo giurarono loro ma tre giorni dopo che ebbero fermato questo patto seppero che quelli erano loro vicini e abitavano in mezzo a loro poiché i figlioli di Israele partirono e giunsero alle loro città il terzo giorno le loro città erano Gabaon Kephira Be'erot Kiriat Gerahim ma i figlioli di Israele non li uccisero a motivo del giuramento che i capi della radunanza avevano fatto loro nel nome dell'Eterno dell'Iddio di Israele però tutta la radunanza mormorò contro i capi e tutti i capi dissero all'intera radunanza noi abbiamo uscirato loro nel nome dell'Eterno dell'Iddio di Israele perciò non li possiamo toccare ecco quel che faremo loro li lasceremo in vita per non trarci addosso l'ira dell'Eterno a motivo del giuramento che abbiamo fatto loro i capi dissero dunque essi vivranno ma quelli furono semplici spaccalegna ed acquaioli per tutta la radunanza come i capi avevano loro detto Giosuè dunque richiamò e parò loro così perché ci avete ingannati dicendo stiamo molto lontano da voi mentre abitate in mezzo a noi ordunque siete maledetti e non cesserete mai di essere schiavi spaccalegna ed acquaioli per la casa del mio Dio e quelli risposero a Giosuè e dissero era stato espressamente riferito ai tuoi servi che il tuo Dio l'Eterno aveva ordinato al suo servo Mosè di darvi tutto il paese di sterminare dinanzi a voi tutti gli abitanti e noi al vostro appressarvi siamo stati in gran timore per le nostre vite e abbiamo fatto questo ed ora eccoci qui nelle tue mani trattaci come ti par che sia bene e giusto di fare Giosuè li trattò dunque così li liberò dalle mani dei figlioli di Israele perché questi non li uccidessero ma in quel giorno li destinò ad essere spaccalegna ed acquaioli per la radunanza e per l'altare dell'Eterno nel luogo che l'Eterno si sceglierebbe ed è ciò che fanno anche al di d'oggi Giosuè capitolo decimo or quando Adonit Sedek re di Gerusalemme odì che Giosuè aveva preso Ai e l'aveva votata allo sterminio che aveva trattato Ai e il suo re nel modo che aveva trattato Gerico e il suo re che gli abitanti di Gabaon avevano fatto pace con gli israeliti ed erano in mezzo a loro fu tutto spaventato perché Gabaon era una grande città come una delle città reali anche più grande di Ai e tutti gli uomini suoi erano valorosi perciò Adonit Sedek re di Gerusalemme mandò a dire a Oman re di Ebron e a Piram re di Yarnuth e a Iafia re di Lachis e a Debir re di Eglom salite con me e soccorretemi e noi batteremo Gabaon perché ha fatto la pace con Giosuè e coi figlioli di Israele e i cinque rei degli amorei e il re di Gerusalemme e il re di Ebron e il re di Iarmut e il re di Lachis e il re di Eglom si radunarono salirono con tutti i loro eserciti e si accamparono di rimpetto a Gabaon e l'attaccarono allora i Gabaon e i Gabaon e gli amorei mandarono a dire a Giosuè al campo di Gilgal non negare ai tuoi servi il tuo aiuto affrettati a salire da noi liberaci soccorrici perché tutti i re degli amorei che abitano la contrada montuosa si sono radunati contro di noi e Giosuè salì da Gilgal con tutta la gente di guerra e con tutti gli uomini segnalati per valore e l'Eterno disse a Giosuè non li temere perché io li ho dati in poter tuo nessuno di loro potrà starti a fronte e Giosuè piombò loro addosso all'improvviso aveva marciato tutta la notte da Gilgal e l'Eterno li mise in rotta davanti a Israele che fe loro subire una grande sconfitta presso Gabaon e li inseguì per la via che sale a Bet-Oron e li batte fino a Zeca e a Mechedda mentre fuggivano dinanzi a Israele ed erano all'ascesa di Bet-Oron l'Eterno fe cadere dal cielo su loro delle grosse pietre fino ad Azeca ed essi perirono quelli che morirono per le pietre della grandinata furono più numerosi di quelli che i figlioli di Israele uccisero con la spada allora Giosuè parlò all'Eterno il giorno che l'Eterno diede gli amorei in potere dei figlioli di Israele e disse in presenza di Israele sole fermati su Gabaon e tu luna sulla valle d'Ailon e il sole si fermò e la luna rimase al suo luogo finché la nazione si fosse vendicata dei suoi nemici questo non sta scritto nel libro del giusto e il sole si fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero e mai né prima né poi si è dato un giorno simile a quello nel quale l'Eterno abbia esaudito la voce di un uomo poiché l'Eterno combatteva per Israele e Giosuè con tutto Israele tornò al campo di Gilgal or i cinque re erano fuggiti e si erano nascosti nella spelonca di Maccheda la cosa fu riferita a Giosuè e gli fu detto i cinque re sono stati trovati nascosti nella spelonca di Maccheda allora Giosuè disse rotolate delle grosse pietre sull'imboccatura della spelonca e ponetevi degli uomini per far loro la guardia ma voi non vi fermate inseguite i vostri nemici e colpite le retroguardie non li lasciate entrare nelle loro città perché l'Eterno il vostro Dio li ha dati in poter vostro e quando Giosuè e i figlioli di Israele ebbero finito di infliggere loro una grande completa disfatta e quelli che scamparono si furono rifugiati nelle città fortificate tutto il popolo tornò tranquillamente a Giosuè al campo di Maccheda senza che alcuno osasse fiatare contro i figlioli di Israele allora Giosuè disse aprite l'imboccatura della caverna e traete fuori quei cinque re e menatemi lì a me quelli fecero così trassero dalla spelonca quei cinque re il re di Gerusalemme il re di Ebron il re di Yarmut il re di Lachis e il re di Eglon e gli condussero e quando ebbero tratti dalla spelonca e condotti a Giosuè quei re Giosuè chiamò tutti gli abitanti di Israele e disse ai capi della gente di guerra che era andata con lui accostatevi mettete il piede sul collo di questi re quelli si accostarono e misero loro il piede sul collo e Giosuè disse loro non temete non vi sgomentate siate forti e fatevi animo poiché così farà l'Eterno a tutti i vostri nemici contro i quali avete a combattere dopo ciò Giosuè li percosse e li fece morire quindi li appiccò a cinque alberi e quelli rimasero appiccati gli alberi fino alla sera e sul tramontare del sole Giosuè ordinò che fossero calati dagli alberi gettati nella spelonca dove si erano nascosti e che all'imboccatura della caverna fossero messe delle grosse pietre le quali vi sono rimaste fino al di d'oggi e in quel medesimo giorno Giosuè prese Machedda e fece passare a fil di spada la città il suo re li votò allo sterminio con tutte le persone che vi si trovavano non ne lasciò scampare una e trattò il re di Machedda come aveva trattato il re di Gerico poi Giosuè con tutto Israele passò da Machedda all'Ibna e l'attaccò e l'Eterno diede anche quella col suo re nelle mani di Israele e Giosuè la mise a fil di spada con tutte le persone che si vi trovavano non ne lasciò scampare una e trattò il re d'essa come aveva trattato il re di Gerico poi Giosuè con tutto Israele passò da Libna all'Achis si accampò dell'impetto a quella e l'attaccò e l'Eterno diede l'Achis nelle mani di Israele che la presi il secondo giorno e la mise a fil di spada con tutte le persone che si trovavano esattamente come aveva fatto a Libna allora Oram il re di Gesa salì in soccorso di l'Achis ma Giosuè battè lui e il suo popolo così da non lasciare scampo ad alcuno poi Giosuè con tutto Israele passò dall'Achis ad Eglon si accamparono dell'impetto a questa e l'attaccarono la presero quel medesimo giorno e la mise a fil di spada e in quel giorno Giosuè votò allo sterminio tutte le persone che vi si trovavano esattamente come aveva fatto a Lachis poi Giosuè con tutto Israele salì da Eglon a Ebro e si accamparono la presero la misero a fil di spada assieme col suo re con tutte le sue città con tutte le persone che vi si trovavano non ne lasciò sfuggire una esattamente come aveva fatto ad Eglon la votò allo sterminio con tutte le persone che vi si trovavano poi Giosuè con tutto Israele tornò verso Debir e l'attaccò la prese col suo re con tutte le sue città la misero a fil di spada e votarono allo sterminio tutte le persone che vi si trovavano senza che ne scappasse una egli trattò Debir e il suo re come aveva trattato Ebron come aveva trattato Libna e il suo re Giosuè dunque batte tutto il paese la contrada montuosa il mezzogiorno la regione bassa le pendici e tutti i loro re non lasciò scampare alcuno ma votò allo sterminio tutto ciò che aveva vita come l'Eterno l'Iddio di Israele aveva comandato Così Giosuè li batte da Cades Barnea fino a Gaza e batte tutto il popolo da Goshen fino a Gabaon Giosuè prese ad una volta tutti quei re e i loro paesi perché l'Eterno l'Iddio di Israele combatteva per Israele poi Giosuè con tutto Israele fece ritorno al campo di Gilgal Giosuè capitolo undicesimo or come Yabin re di Azzor ebbe udito queste cose mandò dei messi a Jobab re di Madom al re di Shimron al re di Aksaf ai re che erano al nord della contrada montuosa nella pianura al sud di Chineret nella regione bassa e sulle alture di Dor a Ponente ai Cananei d'Oriente e di Ponente agli Amorei agli Ittei ai Ferasei ai Gebusei nella contrada montuosa e agli Ivei a piede allo ermo nel paese di Mizpah e quelli uscirono con tutti i loro eserciti formando un popolo innumerevole come l'arena che è sul lido del mare e con cavalli e carri in grandissima quantità tutti questi re si riunirono e vennero ad accamparsi assieme presso le acque di Merom per combattere contro Israele e l'Eterno disse a Giosuè non li temere perché domani a quest'ora io farò che saranno tutti uccisi davanti a Israele e tutto taglierai i garretti ai loro cavalli e dare fuoco ai loro carri Giosuè dunque con tutta la sua gente di guerra marciò all'improvviso contro di essi alle acque di Merom e piombò loro addosso e l'Eterno li diede nelle mani degli israeliti i quali li batterono e li inseguirono fino a Sidone la Grande fino a Mistre Fot Maim e fino alla valle di Mizpah verso Oriente li batteron così da non lasciarne scampare uno e Giosuè ritrattò come gli aveva detto l'Eterno e tagliò i garretti ai loro cavalli ed ed è fuoco ai loro carri al suo ritorno in quel medesimo tempo Giosuè prese Azzor e ne fece perire di spada il re poiché Azzor era stata per la dietro la capitale di tutti quei regni mise anche a fil di spada tutte le persone che vi si trovavano votandole allo sterminio e non vi restò anima viva e dette Azzor alle fiamme Giosuè preseppure tutte le città di quei re e tutti i loro re li mise a fil di spada e li votò allo sterminio come aveva ordinato Mosè servo dell'Eterno ma Israele non arse alcuna delle città poste in collina salvo che Azzor la sola che Giosuè incendiasse e i figlioli di Israele si tennero per sé tutto il bottino di quelle città e il bestiame ma misero a fil di spada tutti gli uomini fino al loro completo sterminio senza lasciare anima viva come l'Eterno aveva comandato a Mosè suo servo così Mosè ordinò a Giosuè e così fece Giosuè il quale non trascurò alcuno degli ordini dell'Eterno che aveva dato a Mosè Giosuè dunque prese tutto quel paese la contrada montuosa tutto il mezzogiorno tutto il paese di Goshen nella regione bassa la pianura la contrada montuosa di Israele e le sue regioni basse dalla montagna Brulla che se leva verso Seir fino a Balgad alla valle del Libano a piede del monte Ermo prese tutti i loro re li colpì e li mise a morte Giosuè fece per lungo tempo guerra a tutti quei re non ci fu città che facesse pace coi figlioli di Israele eccetto gli vei che abitavano a Gabon le presero tutte combattendo poiché l'Eterno faceva sì che il loro cuore si ostinasse a dar battaglia ad Israele onde Israele si voltasse e li mettesse allo sterminio senza che ci fosse pietà per loro e li distruggesse come l'Eterno aveva comandato a Mosè in quel medesimo tempo Giosuè si mise in marcia e sterminò gli anachiti della contrada montuosa di Ebron di Debir di Anab e di tutta la contrada montuosa di Giuda e di tutta la contrada montuosa di Israele Giosuè li votò allo sterminio con le loro città non rimasero più anachiti nel paese dei figlioli di Israele non ne restarono che alcuni in Gaza a Gath e in Asadot Giosuè dunque prese tutto il paese esattamente come l'Eterno aveva detto a Mosè e Giosuè lo diede in eredità ad Israele tribù per tribù secondo la parte che toccava ciascuna e il paese ebbe requie dalla guerra Giosuè capitolo dodicesimo ora questi sono i rei del paese battuti dai figlioli di Israele i quali presero possesso del loro territorio di là dal Giordano verso Levante dalla valle del Nannon fino al monte Hermon con tutta la pianura orientale Sion re degli Amorei che abitava a Eshbon e dominava la Aroer che è sull'orlo della valle dell'Arnon e dalla metà della valle alla metà di Galad fino al torrente Jabok confine dei figlioli di Amon sulla pianura fino al mare a Kineret verso oriente e fino al mare della pianura che è il mare salato a oriente verso Bet Jeshimot e dal lato di Mezzogiorno fino a piede alle pendici del Pisga poi poi il territorio di Og re di Basan uno dei superstiti di Raffain che abitava ad Astaroth e a Edrei e dominava dal monte Hermon su Saka su tutto Basan sino ai confini dei Gesuriti e dei Maacatiti e sulla metà di Galad confine di Sion re di Eshbon Mosè servo dell'Eterno e figlioli di Israele li batterono e Mosè servo dell'Eterno diede il loro paese come possesso ai Rubeniti e ai Gaditi e a mezza la tribù di Menasse ed ecco i re del paese che Giosuè e i figlioli di Israele batterono di qua dal Giordano a Occidente da Balgad nella valle del Libano fino alla montagna Abrulla che si eleva verso Seir paese che Giosuè diede in possesso alle tribù di Israele secondo la parte che toccava ciascuna nella contrada montuosa nella regione bassa nella pianura sulle pendici nel deserto e nel mezzogiorno il paese degli Ittei degli Amorei dei Cananei dei Ferasei degli Ivei e dei Gevusei il re di Gerico il re di Ai vicino a Bete il re di Gerusalemme il re di Ebron il re di Yarmut il re di Lacis il re di Eglon e il re di Gesa il re di Debir e il re di Geder il re di Orma il re di Arad e il re di Libna il re di Adulam e il re di Makeda e il re di Beto e il re di Tappua e il re di Efer e il re di Efec e il re di Charon e il re di Madon e il re di Azzor e il re di Shimrom Meron e il re di Axaf e il re di Tanac e il re di Megiddo e il re di Cades e il re di Iocaneam al Carmelo e il re di Dor sulle alture di Dor e il re di Goin nel Gilgal e il re di Tirsa in tutto trentun re Giosuè capitolo tredicesimo O Giosuè era vecchio ben avanti negli anni e l'Eterno gli disse tu sei vecchio ben avanti negli anni e rimane ancora una grandissima parte del paese da conquistare ecco quel che rimane tutti i distretti dei Filistei e tutto il territorio dei Gesuriti dallo Scior che scorre a oriente dell'Egitto sine al confino di Ekron a Settentrione regione che va ritenuta come Cananea e che appartiene ai cinque principi dei Filistei a quello di Gaza a quello di Asdod a quello di Ascalon a quello di Gath a quello di Ekron e anche agli Avei a Mezzogiorno tutto il paese dei Cananei e Meara che è dei Sidoni sino a Fe sino al confine degli Amorei il paese dei Ghibi-Liti e tutto il Libano verso il Levante da Baal-Gat a piede al monte Hermon fino all'ingresso di Amat tutti gli abitanti della contrada montuosa del Libano fino a Misrefot-Mahim tutti i Sidoni io li caccerò dinnanzi ai figlioli di Israele e tu spartisci pure a sorte l'eredità di questo paese tra gli Israeliti nel modo che io t'ho comandato or dunque spartisci l'eredità di questo paese fra nove tribù e la mezza tribù di Manasse i Rubiniti e i Gaditi con l'altra metà della tribù di Manasse hanno ricevuto la loro eredità che Mosè servo dell'Eterno diede loro di là dal Giordano a Oriente da Aroer sull'orlo della valle di Arnon e dalla città che è in mezzo alla valle tutto l'altipiano di Medeba fino a Dibon tutte le città di Sion re degli Amorei che regnava a Eshbon fino al confine dei figlioli di Amon Galad il territorio dei Gesurriti e dei Mahatiti tutto il monte Ermon e tutto Basan fino a Salca tutto il regno di Og in Basan che regnava in Astaroth e Aedrei ultimo superstite dei Refaim Mosè sconfisse questi re e li cacciò ma i figlioli di Israele non cacciarono i Gesuriti e i Mahatiti e Gesur e Mahat abitano in mezzo ad Israele fino al di Dogi solo alla tribù di Levi Mosè non diede alcuna eredità i sacrifici offerti mediante il fuoco all'Eterno all'Eddio di Israele sono la sua eredità come egli disse Mosè dunque diede alla tribù dei figlioli di Ruben la loro parte secondo le loro famiglie ed essi ebbero per territorio partendo da Aroer sull'orlo della valle dell'Arno e dalla città che è in mezzo alla valle tutto l'altipiano presso Medeba Ashbon e tutte le sue città che sono sull'altipiano dibom bamot bal bet bal meom iats kedesh mot e mefaat kirjataim sibna teseret ashalar sul monte della valle bet peor le pendici del pisga e bed yeshimot tutte le città dell'altipiano tutto il regno di Sion re degli amorei che regnava a Ashbon quello che Mosè sconfisse coi principi di Madiam Evi Rechen Sur Hur e Reba principi vassali di Sion che abitavano il paese i figlioli di Israele fecero morire di spada anche Balaam figliolo di Beor l'Indovino insieme con gli altri che uccisero al territorio dei figlioli di Ruben serviva di confine il Giordano tale fu l'eredità dei figlioli di Ruben secondo le loro famiglie con le città e i villaggi annessi Mosè diede pure alla tribù di Gad ai figlioli di Gad e la loro parte secondo le loro famiglie essi ebbero per territorio Iazer tutte le città di Galahad la metà del paese dei figlioli di Amon fino ad Aroer che è di rimpetto a Rabba da Esbon fino a Ramat Mitzpe e Batohim da Ma'anaim fino al confine di Debir e nella valle Bet Aram Bet Nimra Sukol Safon residuo del regno di Sion re di Esbon avendo il Giordano per confine sino all'estremità del mare di Kineret di là dal Giordano a Oriente tale fu l'eredità dei figlioli di Gad secondo le loro famiglie con le città e i villaggi annessi Mosè diede pure alla mezza tribù di Menasse ai figlioli di Menasse la loro parte secondo le loro famiglie il loro territorio comprendeva da ma Anahim tutto Basam tutto il regno di Ogre di Basam tutti i borghi di Jairin in Basam in tutto sessanta terre la metà di Galahad Astaroth e Edrei città del regno di Og in Basam toccarono i figlioli di Machir figlioli di Menasse alla metà dei figlioli di Machir secondo le loro famiglie tali sono le parti che Mosè fece quando era nelle pianure di Moab di là dal Giordano di rimpetto a Gerico a Oriente ma alla tribù di Levi Mosè non dette alcuna eredità l'Eterno le Dio di Israele è la sua eredità come ei le disse Giosuè capitolo quattordicesimo or queste sono le terre che i figlioli di Israele ebbero come eredità nel paese di Canaan e che il sacerdote Eleazar Giosuè figliolo di Nun e Capi famiglia delle tribù dei figlioli di Israele distribuirono loro l'eredità fu distribuita a sorte come l'Eterno aveva comandato per mezzo di Mosè alle nove tribù e alla mezza tribù perché le altre due tribù e alla metà tribù Mosè aveva dato la loro eredità al di là del Giordano mentre ai Leviti non aveva dato tra i figlioli di Israele alcune eredità perché i figlioli di Giuseppe formavano due tribù Menasse ed Efrain e ai Leviti non fu data alcuna parte nel paese tranne delle città per abitarvi coloro dintorni per il loro bestiame e i loro averi i figlioli di Israele fecero come l'Eterno aveva comandato a Mosè e spartirono il paese ora i figlioli di Giuda s'accostarono a Giosuè a Gilgal e Caleb figliolo di Ghefunne il Keniseo gli disse tu sai quel che l'Eterno disse a Mosè uomo di Dio riguardo a me e a te a Cades Barnea io avevo quarant'anni quando Mosè servo dell'Eterno mi mandò da Cades Barnea ad esplorare il paese e io gli feci la mia relazione con sincerità di cuore ma i miei fratelli che erano saliti con me scoraggiarono il popolo mentre io seguì pienamente l'Eterno il mio Dio in quel giorno Mosè fece questo giuramento la terra che il tuo piede ha calcata sarà eredita tua ed i tuoi figlioli in perpetuo perché hai pienamente seguito l'Eterno il mio Dio ed ora ecco l'Eterno mi ha conservato in vita come aveva detto durante quarant'anni ormai trascorsi da che l'Eterno disse quella parola a Mosè quando Israele viaggiava nel deserto ed ora ecco che ho ottantacinque anni sono oggi ancora robusto come era il giorno che Mosè mi mandò le mie forze sono le stesse da allora tanto per combattere quanto per andare e venire or dunque dammi questo monte del quale l'Eterno parlò quel giorno poiché tu udisti allora che vi stavano degli Anachin e che vi sono delle città grandi e fortificate forse l'Eterno sarà meco e io li cacerò come disse l'Eterno e allora Giosuè lo benedisse e dette Ebron come eredità a Caleb figliolo di Ghefunne per questo Caleb figliolo di Ghefunne il Keniseo ha avuto Ebron come eredità fino al di d'oggi perché aveva pienamente eseguito l'Eterno l'Irdio di Israele ora Ebron si chiamava per addietro Kiriat Arba Arba era stato l'uomo più grande fra i figlioli di Anachin e il paese ebbe recue dalla guerra Giosuè capitolo quindicesimo or la parte toccata a sorte alla tribù dei figlioli di Giuda secondo le loro famiglie si estendeva sino al confine di Edom al deserto di Zin verso Sud all'estremità meridionale di Canam il loro confine meridionale partiva dall'estremità del Mar Salato dalla lingua che vogge a Sud e si prolungava al Sud della salita di Acrabin passava per Zin poi saliva al Sud di Cades Barnea passava da Azzeron saliva verso Adar e si volgeva verso Karar passava quindi da Azzmon e continuava fino al torrente d'Egitto per far capo al mare questo sarà disse Giosuè il vostro confine meridionale il confine orientale era il mare salato sino alla foce del Giordano il confine settentrionale partiva dal braccio di mare dove è la foce del Giordano e di là saliva verso Beth Ogla passava al nord di Beth a Rabba saliva fino al sasso di Boa figliolo di Ruben poi partendo dalla valle di Acor saliva a Debir e si diriceva verso il nord dal lato di Gilgal che è di rimpetto alla salita di Adumim al Sud del Torrente poi passava presso le acque di En Shemesh e faceva capo a En Rogel di là il confine saliva per la valle di Ben Hinnom fino al versante meridionale del monte dei Gebusei che è Gerusalemme poi si elevava fino al sommo del monte che è di rimpetto alla valle di Enom a occidente e all'estremità della valle di Refaim al nord dal sommo del monte il confine si estendeva fino alla sorgente delle acque di Naftoat continuava verso le città del monte Efron e si prolungava fino a Bala che è Kiriet-Yarim da Bala volgeva poi a occidente verso la montagna di Seir passava per il versante setenzionale del monte Iarim che è Keslom e scendeva a Bet Shemesh e passava per Timna di là il confine continuava verso il lato setenzionale di Eskrom si estendeva verso Shikrom passava per il monte Bala si prolungava fino a Iabner e faceva capo al mare il confine occidentale era il mar grande tali furono da tutti i lati i confini dei figlioli di Giuda secondo le loro famiglie a Caleb figliolo di Gefun Giosuè dette una parte in mezzo ai figlioli di Giuda come l'Eterno gli aveva comandato cioè la città di Arba padre di Anak la quale è Ebrom e Caleb ne cacciò i tre figlioli di Anak Sheshai Aiman Talmai discendenti di Anak di Lasali contro gli abitanti di Debir che prima si chiamava Kiriasefer e Caleb disse a chi batterà Kiriasefer e la prenderò io darò in moglie Aksa mia figliola allora Otniel figliolo di Kenas fratello di Caleb la prese e Caleb gli diede in moglie Aksa sua figliola e quando ella venne a star con lui persuase Otniel a chiedere un campo a Caleb suo padre essa scese di sull'asino e Caleb le disse che vuoi e quella rispose fammi un dono già che tu mai stabilito in una terra arrida dammi anche le sorgenti dell'acqua ed egli le donò le sorgenti superiori e le sorgenti sottostanti questa è l'eredità della tribù dei figlioli di Giuda secondo le loro famiglie le città poste all'estremità della tribù dei figlioli di Giuda verso i confini di Edom dal lato del mezzogiorno erano cap zil eder jagur kina dimona adeada kades atzor itnam zif talen bealot atzaror adada kerriot etzron kehe atzor aman shema molada atzar gadda esmon bet palet atzar shual ber shiba bizziota baala tim atzem etlolad kasin ordma sidlag madmanna sansanna lebaot shimbling ain rimon in tutto ventinove città e loro villaggi nella regione bassa estaol sorea ashna zanaom enganin tapua enam irmut adulam soko adzeka shaaraim abitaim gedera gera dotaim quattordici città e loro villaggi cema adasha migdar gad dilean mitzpe yoktel lakis botsakat eglon kabon lamas kitlish gedorot bet dagon naama e makedda sedisi città e loro villaggi libna edel ashan ifat ashna net sib keila meresha nove città e loro villaggi ekron le città del suo territorio e i suoi villaggi da ekron e a occidente tutte le città vicine a asdot e i loro villaggi asdot le città del suo territorio e i suoi villaggi gaza le città del suo territorio e i suoi villaggi fino al torrente d'egitto e al mar grande che serve da confine nella contrada montuosa shanoir yatir soko danna kiriet sanna che è debil anab esnuo ahin goshen kolom gilo undici città e loro villaggi arum duma eshean janum bet taputh affeca humta kiriet arba che è ebrum e zior nove città e loro villaggi maon carmel zif juta iit ril yokdem zanoat kaim gibea timna dieci città e loro villaggi halhul bet sur gedor maarat bet anoth e el tekon se città e loro villaggi kiriat baal che kiriat iarim e raba due città e loro villaggi nel deserto bet araba midim sekat nishan ir amelat e gadi sei città e loro villaggi quanto ai gebusei che abitavano in gerusalemme i figlioli di giuda non li poteron cacciare i gebusei hanno abitato con figliola di giuda in gerusalemme fino al di d'oggi giosuè capitolo sedicesimo la parte toccata a sorte ai figlioli di giuseppe si estendeva dal giordano presso gerico verso le acque di gerico a oriente seguendo il deserto che sale da gerico a betol per la contrada montuosa il confine continuava poi da betol a luz e passava per la frontiera degli archei a tarot e scendeva ad occidente verso il confine dei giafletei fino al confine di bet oron di sotto fino a gezer e faceva capo al mare i figlioli di giuseppe menasse ed efraim ebbero ciascuno la loro eredità or questi furono i confini dei figlioli di efraim secondo le loro famiglie il confine della loro eredità era a oriente a tarot a dar fino a bet oron di sopra continuava dal lato di occidente verso mikmetat al nord e girava oriente verso tanat shilo e le passava davanti a oriente di janaok poi da janoa scendeva ad atarot e a naharat toccava gerico e faceva capo al giordano da tapua il confine andava verso occidente fino al torrente di kana per far capo al mare tale fu l'eredità della tribù dei figlioli di efraim secondo le loro famiglie con l'aggiunta delle città tutte le città e loro villaggi messi a parte per figlioli di efraim in mezzo all'eredità di figlioli di menasse or essi non cacciarono i cananei che abitavano a gesa e i cananei hanno dimorato in mezzo ad efraim fino al di doji ma sono stati soggetti a servitù Giosuè capitolo dicesettesimo questa fu la parte toccata a sorte alla tribù di menasse perché egli era il primogenito di Giuseppe quanto a Macchir primogenito di menasse padre di Galad siccome era un uomo di guerra aveva avuto Galad e Basam fu dunque data a sorte una parte agli altri figlioli di menasse secondo le loro famiglie ai figlioli di Abieser e ai figlioli di Elecch e ai figlioli di Astrier e ai figlioli di Siken e ai figlioli di Efer e ai figlioli di Shemida questi sono i figlioli maschi di menasse figliolo di Giuseppe secondo le loro famiglie or se lo fehad figliolo di Efer figliolo di Gala figliolo di Machir figliolo di menasse non ebbe figlioli ma ebbe delle figliole delle quali ecco i nomi Malahat Noah Oglar Milca e Tirza questi si presentarono davanti al sacerdote Eleazar davanti a Giosuè figliolo di Num e davanti ai principi dicendo l'Eterno comandò a Mosè di darci un'eredità in mezzo ai nostri fratelli e Giosuè diede loro in eredità in mezzo ai fratelli del Padre loro conformemente all'ordine dell'Eterno toccarono così dieci parti a menasse oltre il paese di Gala e di Basan che è di là da Giordano poiché le figlioli di menasse ebbero un'eredità in mezzo ai figlioli di lui e il paese di Galat fu per gli altri figlioli di menasse il confine di menasse si estendeva da Asher a Mikmetat che è di rimpetto a Sichem e andava a mandestra verso gli abitanti di En-Tapuat il paese di Tapuat appartenne a menasse ma Tapuat sul confine di menasse appartenne ai figlioli di Efraim poi il confine scendeva al torrente di Cana a sud del torrente presso le città che appartenevano a Efraim in mezzo alle città di menasse ma il confine di menasse era dal lato nord del torrente e faceva capo al mare ciò che era a mezzogiorno apparteneva a Efraim ciò che era a settentrione apparteneva a menasse e il mare era il loro confine a settentrione confinavano con Asher e a oriente con Isakar di più menasse ebbe in quel di Zakar e in quel di Asher Bet Shean con i suoi villaggi Ibleam e i suoi villaggi gli abitanti di Dor con i suoi villaggi gli abitanti di Endor con i suoi villaggi gli abitanti di Tanaac con i suoi villaggi gli abitanti di Meghido con i suoi villaggi vale a dire tre regioni elevate ora i figlioli di menasse non poterono impadronirsi di quelle città i cananei erano decisi a restare in quel paese però quando i figlioli di Israele si furono rinforzati assoggettarono i cananei a servitù ma non li cacciarono del tutto ora i figlioli di Giuseppe parlarono a Giosuè e gli dissero perché ci ha dato come eredità un solo lotto una parte sola mentre siamo un gran popolo che l'Eterno ha così tanto benedetto e Giosuè disse loro se siete un popolo numeroso salite alla foresta dissodatela per farvi del posto nel paese dei faresei e dei raffain giacché la contrada montuosa di Efraim è troppo stretta per voi ma i figlioli di Giuseppe risposero quella contrada montuosa non ci basta e quanto alla contrada in pianura tutti i cananei che l'abitano hanno dei carri di ferro tanto quelli che stanno a Beth-Shean e nei suoi villaggi quanto quelli che stanno nella valle di Israel allora Giosuè parlò alla casa di Giuseppe a Efraim e a Menasse e disse loro voi siete un popolo numeroso e avete una gran forza non avrete una parte sola ma vostra sarà la contrada montuosa e siccome è una foresta la dissoderete e sarà vostra in tutta la sua distesa perché voi caccerete i cananei benché abbiano dei carri di ferro e benché siano potenti Giosuè capitolo diciottesimo poi tutta la radunanza dei figlioli di Israele s'adunò a Shilot e qui vi rizzarono la tenda di convegno il paese era loro sottomesso ora rimanevano tra i figlioli di Israele sette tribù che non avevano ricevuto la loro eredità e Giosuè disse ai figlioli di Israele fino a quando vi mostrerete lenti ad andare a prendere possesso del paese che l'Eterno l'Idio dei vostri padri va dato sceglietevi tre uomini per tribù e io li manderò essi si levaranno e percorrerono il paese e ne faranno la descrizione in vista della partizione poi torneranno da me essi lo divideranno in sette parti Giuda rimarrà nei suoi confini a mezzogiorno e la casa di Giuseppe rimarrà nei suoi confini a settenzione voi farete dunque la descrizione del paese dividendolo in sette parti me la porterete qui e io ve le tirerò a sorte qui davanti all'Eterno al nostro Dio i Leviti non debbono aver parte di sorta in mezzo a voi giacché il sacerdozio dell'Eterno è la parte loro e Gad Ruben e la mezza tribù di Menasse hanno già ricevuto al di là del Giordano a Oriente l'eredità di Mosè servo dell'Eterno che ha data loro quegli uomini dunque si levarono e partirono e a loro che andavano a fare la descrizione del paese Gesù diede quest'ordine andate percorrete il paese fate nella descrizione poi tornate da me e io vi tirerò a sorte le parti qui davanti all'Eterno a Scilo e quegli uomini andarono percorsero il paese ne fecero in un libro la descrizione per città dividendolo in sette parti poi tornarono da Giosuè al campo di Scilo allora Giosuè trasse loro a sorte le parti di Scilo davanti all'Eterno e qui vi spartì il paese tra i figlioli di Israele assegnando a ciascuno la sua parte fu tirata a sorte la parte della tribù dei figlioli di Beniamino secondo le loro famiglie e la parte che coloro aveva i suoi confini tra i figlioli di Giuda e i figlioli di Giuseppe dal lato di Settentrione il loro confine partiva dal Giordano risaliva il versante di Gerico al nord saliva per la contrada montuosa verso occidente e faceva capo al deserto di Bethaven di là passava per Luz sul versante meridionale di Luz che è ora Beto e scendeva a Ataroth Adar presso il monte che è a mezzogiorno di Betoron di sotto poi il confine si prolungava e dal lato occidentale girava a mezzogiorno dal monte posto di faccia a Betoron e faceva capo a Kiryat Bal che è Kiryat Yarim città dei figlioli di Giuda questo era il lato occidentale il lato di mezzogiorno cominciava all'estremità di Kiryat Yarim il confine si prolungava verso occidente fino alla sorgente delle acque di Neftoat e poi scendeva all'estremità del monte presso di faccia alla valle di Ben Inom che è nella vallata di Refain al nord e scendeva per la valle di Inom sul versante meridionale dei Gebusei fino a Enrogel si estendeva quindi verso il nord e giungeva a Enshemesh di là si dirigeva verso Gileloth che è di rimpetto alla salita da Adumim e scendeva al sasso di Boan figliuolo di Rubem poi passava per il versante setenzionale di Faccia a Rabba e scendeva a Rabba il confine passava quindi per il versante setenzionale di Bet Ogla e faceva capo al braccio nord del mar Salato all'estremità meridionale del Giordano questo era il confine meridionale il Giordano serviva di confine al lato orientale tale fu l'eredità dei figliuoli di Beniamino secondo le loro famiglie coi suoi confini da tutti i lati le città delle tribù dei figliuoli di Beniamino secondo le loro famiglie furono Gerico Bet Ogla Emek Ketzit Bet Arabac Semarim Beto Avim Pera Ofra Kephar Ammonai Ofni e Geba dodici città e loro villaggi Gabaon Rama Berot Mitzpe Kafira Mozza Rechen Irpeel Tara Reala Tsela Elef Gebus Mosche e Gerusalemme Ghibia e Kiriat quattordici città e loro villaggi tale fu l'eredità dei figliuoli di Beniamino secondo le loro famiglie Giosuè capitolo diciannovesimo la seconda parte tirata a sorte toccò a Simeone alla tribù dei figliuoli di Simeone secondo le loro famiglie la loro eredità era in mezzo all'eredità dei figliuoli di Giuda ebbero nella loro eredità Bershiba Sheba Molada Azur Shual Bala Azzem El Tolad Betul Horma Ziklag Bet Mareoboth Azar Susa Bet Lebaoth e Sharuchem tredici città e loro villaggi Ahim Rimon Eter Ashan quattro città e loro villaggi e tutti i villaggi che stavano attorno a queste città fino a Balatber che è la rama del sud Tale fu l'eredità della tribù dei figlioli di Simeone secondo le loro famiglie L'eredità dei figlioli di Simeone fu tolta dalla parte dei figlioli di Giuda perché la parte dei figlioli di Giuda era troppo grande per loro ondè che i figlioli di Simeone ebbero la loro eredità in mezzo all'eredità di quelli La terza parte tirata a sorte toccò ai figlioli di Zabulon secondo le loro famiglie il confine della loro eredità si estendeva fino a Sarid questo confine saliva occidente verso Maraela e giungeva a Dableshet e poi al torrente che scorre di faccia a Ioceneam da Sarid girava ad oriente verso il sollevante sino al confine di Kislot-Tabor poi continuava verso Debrath e saliva a Iafia di là passava all'oriente per Get e Fer per Et Katsim e continuava verso Rimon prolungandosi fino a Nea poi il confine girava dal lato di Settentrione verso Anathot e faceva capo alla valle di Fat Hel esso includeva inoltre Katat Nahalal Shimron Ideala Beth Yelem dodici città e i loro villaggi tale fu l'eredità dei figlioli di Zabulon secondo le loro famiglie quelle città e i loro villaggi la quarta parte tirata a sorte toccò a Issachar ai figlioli di Issachar secondo le loro famiglie il loro territorio comprendeva Izrael Kessulot Sunem Afarim Shion Anarat Rabit Kishon e Beth Remet Enganim en Hadda Beth Pazet poi il confine giungeva a Tabor Shaashim e Beth Shemesh e faceva capo al Giordano sedici città e i loro villaggi tale fu l'eredità della tribù dei figlioli di Issachar secondo le loro famiglie quelle città e i loro villaggi la quinta parte tirata a sorte toccò ai figlioli di Asher secondo le loro famiglie il loro territorio comprendeva Elkat Hali Beten Aksaf Alamelech Ahmad Michel e il loro confine giungeva verso occidente Al-Karmel e a Shior Libnath poi girava dal lato del sollevante verso Beth Dagon giungeva a Zabulon e alla valle di Ital-El al nord di Beth e Mech e di Neiel si prolungava verso Kabul a sinistra e verso Ebron Cheob Eob Imon Cana fino a Sidon la Grande poi il confine girava verso Rama fino alla città forte di Tiro giungeva verso Osea e faceva capo al mare del lato del territorio di Akrib e se lo includeva inoltre in Mat Efek e Hob ventidue città e loro villaggi tale fu l'eredità della tribù dei figlioli di Asher secondo le loro famiglie queste città e i loro villaggi la sesta parte tirata a sorte toccò ai figlioli di Neftali secondo le loro famiglie il loro confine si estendeva da Elef da Elom Baazanim Adami Nekeb Ibn El fino a Akum e faceva capo al Giordano poi il confine girava occidente verso Adnot Tabor e di lì continuava verso Ucoc giuggeva Zabulon dal lato di Mezzogiorno e a Asher dal lato d'Occidente e a Giuda del Giordano dal lato di Levante le città forti erano Sidin Ser Amat Calcat Kinaret Adam Rana Katsor Kades Edrei En Azzor Ireon Migdar El Horen Bet Anad e Bet Shimesh diciannove città e loro villaggi tale fu l'eredità della tribù dei figlioli di Neftali secondo le loro famiglie queste città e i loro villaggi La settima parte tirata sorte toccò alla tribù dei figlioli di Dan secondo le loro famiglie il confine della loro eredità comprendeva Zorea Eshtahol Ir Shemesh Shash Labin Aialon Itla Elon Timnat Ekron Elteke Gibletton Pa'alat Yehud Bene Berrak Gatrimon Me Iarkon e Rakon col territorio di rimpetto a Jafo ora il territorio dei figlioli di Dan se stesse più lungi poiché i figlioli di Dan salirono a combattere contro Lashem la presero e la misero a fil di spada ne presero possesso e vi si stabilirono e la chiamarono Lashem Dan dal nome di Dan loro padre tale fu l'eredità della tribù dei figlioli di Dan secondo le loro famiglie queste città e i loro villaggi ora quando i figlioli di Israele ebbero finito di distribuirsi l'eredità del paese secondo i suoi confini dettero a Giosuè figliolo di Nun un'eredità in mezzo a loro secondo l'ordine dell'Eterno gli diedero la città che gli chiese Tinna Serat nella contrada montuosa di Efraim egli costruì la città e vi si stabilì tali sono le eredità che il sacerdote Eleazar Giosuè figliolo di Nun e i capi famiglia delle tribù dei figlioli di Israele distribuirono a sorte a Scilo davanti all'Eterno all'ingresso della tenda di convegno così compirono la spartizione del paese Giosuè capitolo ventesimo poi l'Eterno parlò a Giosuè dicendo parla i figlioli di Israele di loro stabilitevi le città di rifugio delle quali vi parlai per mezzo di Mosè affinché l'omicida che avrà ucciso qualcuno senza averne l'intenzione possa ricoverarvisi esse vi serviranno di rifugio contro il vindice del sangue l'omicida si ricoverà in una di quelle città e fermatosi all'ingresso della porta della città esporrà il suo caso agli anziani di questa città questi lo accoglieranno presso di loro dentro la città gli stabiliranno una dimora ed egli si stabilirà fra loro e se il vindice del sangue lo inseguirà essi non gli daranno nelle mani l'omicida poiché ha ucciso il prossimo senza averne l'intenzione senza averlo odiato prima l'omicida rimarrà in quella città finché alla morte del sommo sacerdote che sarà in funzione in quei giorni comparisca in giudizio davanti alla radunanza allora l'omicida potrà tornarsene e rientrare nella sua città nella sua casa nella città dove era fuggito essi dunque consacrarono Cades in Galilea nella contrada montuosa di Neftali sì che nella contrada montuosa di Ephraim Kiriat Arba che è ebro nella contrada montuosa di Giuda e di là dal Giordano e a oriente di Gerico stabilirono nella tribù di Ruben Bezer nel deserto dell'artipiano Ramoth in Galat nella tribù di Gan e Golan in Basan nella tribù di Menasse queste furono le città assegnate a tutti i figlioli di Israele e allo straniero di Morante fra loro affinché chiunque avesse ucciso qualcuno involontariamente potesse rifugiarvisi e non essere messo a morte per man del vindice del sangue prima d'essere comparso davanti alla radunanza Giosuè capitolo ventunesimo or i capi famiglia dei Leviti si accostarono al sacerdote Eleazar e a Giosuè figliolo di Nun e ai capi famiglia delle tribù dei figlioli di Israele e parlarono loro a Shilot nel paese di Canaan dicendo l'Eterno comandò per mezzo di Mosè che ci fossero date delle città da abitare con i loro contadi per il nostro bestiame e i figlioli di Israele diedero alla loro eredità ai Leviti le seguenti città e i loro contadi secondo il comandamento dell'Eterno si tirò a sorte per le famiglie dei cheatiti e i figlioli del sacerdote Aronne che erano Leviti ebbero a sorte tredici città della tribù di Giuda della tribù di Simeone e della tribù di Beniamino al resto dei figlioli di Kehat toccarono a sorte dieci città delle famiglie della tribù di Efraim della tribù di Dan e della mezza tribù di Benasse ai figlioli di Gerson toccarono a sorte tredici città delle famiglie della tribù di Sakar della tribù di Asher e della tribù di Neftali e della mezza tribù di Benasse in Basan ai figlioli di Merari secondo le loro famiglie toccarono dodici città della tribù di Ruben della tribù di Gad e della tribù di Zabulon i figlioli di Israele diedero dunque a sorte coteste città ai loro contadi ai Leviti come l'Eterno aveva comandato per mezzo di Mosè diedero cioè della tribù dei figlioli di Giuda e della tribù dei figlioli di Simeone le città qui menzionate per nome le quali toccarono ai figlioli di Aronedi tra le famiglie dei Cheatiti figlioli di Levi perché il primo lotto fu per loro furono dunque date a loro Kiriat Arba cioè Ebron Arba fu il padre di Anac nella contrada montuosa di Giuda col suo contado tutto intorno ma diedero il territorio delle città e i suoi villaggi come possesso a Caleb figliolo di Ghefunne e diedero ai figlioli del sacerdote Arone le città di rifugio per l'omicida Ebron il suo contado poi Libna il suo contado Yathir il suo contado Est Moa il suo contado Olom il suo contado Debir il suo contado Ahim il suo contado Jutta il suo contado e Bet Shemesh il suo contado nove città di queste due tribù e della tribù di Beniamino Gabaon il suo contado Geba e il suo contado Anathot e il suo contado Almon e il suo contado quattro città totale delle città dei sacerdoti figlioli di Arone tredici città e i loro contati alle famiglie dei figlioli di Kethat cioè al rimanente dei Leviti figlioli di Kehat toccarono delle città della tribù di Efraim fu loro data la città di rifugio per l'omicida a Sichem col suo contado nella contrada montuosa di Efraim poi Gezer è il suo contado Kibezaim è il suo contado Bet Oron è il suo contado quattro città della tribù di Dan El Teke è il suo contado Gibethon è il suo contado Aialon è il suo contado Gad Kimom è il suo contado quattro città della mezza tribù di Menasse Tanaac è il suo contado Gad Rimon è il suo contado due città totale dieci città coi loro contati che toccarono alle famiglie degli altri figlioli di Kehat ai figlioli di Gerson che erano delle famiglie delle viti furono date della mezza tribù di Menasse la città di rifugio per l'omicida Golan in Balsam è il suo contado Beestra col suo contado due città della tribù di Issachar Kishion è il suo contado Dabrat è il suo contado Yarmut è il suo contado Enganin è il suo contado quattro città della tribù di Asce Mishial è il suo contado Abdon è il suo contado El-Kath è il suo contado Re-Aub è il suo contado quattro città e della tribù di Neftali la città di rifugio per l'omicida Cades in Galilea è il suo contado Amot Dor è il suo contado Kartan è il suo contado tre città totale delle città dei Gersoniti secondo le loro famiglie tredici città e i loro contati e alle famiglie dei figlioli di Merari cioè il rimanente delle Viti furon date dalla tribù di Zabulon Yokeneam è il suo contado Kart è il suo contado Dimna è il suo contado Nahalal è il suo contado quattro città della tribù di Ruben Bezzer è il suo contado Yatsa è il suo contado Kedemoth è il suo contado Nefaat è il suo contado quattro città e della tribù di Gad la città di rifugio per l'omicida Ramoth in Galar è il suo contado ma Hanahim è il suo contado Eshbon è il suo contado Yeahel è il suo contado in tutto quattro città totale delle città date a sorte ai figlioli di Merari secondo le loro famiglie formanti il resto delle famiglie dei Leviti dodici città totale delle città delle Leviti in mezzo ai possessi dei figlioli di Israele quarantotto città e i loro contati ciascuna di queste città aveva il suo contado tutto intorno così erano di tutte queste città l'Eterno diede dunque a Israele tutto il paese che aveva giurato ai padri di dar loro e i figlioli di Israele ne presero il possesso e vi si stabilirono e l'Eterno diede loro requido ogni intorno come aveva giurato ai loro padri e nessuno di tutti i loro nemici potesse a loro in fronte l'Eterno diede loro nelle mani tutti quei nemici di tutte le buone parole che l'Eterno aveva dette alla casa di Israele non ne cadde a terra una tutte si compierono Giosuè capitolo ventiduesimo allora Giosuè chiamò i rubeniti i gaditi e la mezza tribù di Menassi disse loro voi avete osservato tutto c'è con Mosè servo dell'Eterno vi aveva ordinato e avete ubbidito la mia voce in tutto quello che io vi ho comandato voi non avete abbandonato i vostri fratelli durante questo lungo tempo fino ad oggi e avete osservato come dovevate il comandamento dell'Eterno che è il vostro Dio ed ora che l'Eterno il vostro Dio ha dato requie ai vostri fratelli come aveva lor detto ritornatevene e andatevene alle vostre tende nel paese che vi appartiene che Mosè servo dell'Eterno vi ha dato di là dal Giordano soltanto abbiate gran cura di mettere in pratica i comandamenti e la legge che Mosè servo dell'Eterno vi ha dato amando l'Eterno il vostro Dio camminando in tutte le sue vie osservando i suoi comandamenti tenendovi stretti a lui e osservandolo con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra poi Giosuè li benedisse e li accommiatò e quelli se ne tornarono alle loro tende or Mosè aveva dato a una metà della tribù di Menasse un'eredità in Basam e Giosuè dette l'altra metà dell'eredità fra i loro fratelli di qua dal Giordano a Occidente quando Giosuè li rimandò alle loro tende e li benedisse disse loro ancora voi tornate alle vostre tende con grandi ricchezze con moltissimo bestiame con argento oro rame ferro e con grandissima quantità di vestimenti dividete con i vostri fratelli il bottino dei vostri nemici i figlioli di Ruben i figlioli di Gade la mezza tribù di Menasse dunque se ne tornarono dopo aver lasciato i figlioli di Israele a Scilo nel paese di Canaan per andare nel paese di Galad il paese di loro proprietà del quale avevano ricevuto il possesso dietro il comandamento dato dall'Eterno per mezzo di Mosè e come giunsero alla regione del Giordano che appartiene al paese di Canaan i figlioli di Ruben i figlioli di Gade la mezza tribù di Menasse vi costruirono un altare presso il Giordano un grande altare che colpiva la vista i figlioli di Israele udirono che si diceva ecco i figlioli di Ruben i figlioli di Gad e la mezza tribù di Menasse hanno costruito un altare di faccia al paese di Canaan nella regione del Giordano dal lato dei figlioli di Israele quando i figlioli di Israele udirono questo tutta la radunanza dei figlioli di Israele si riunì a Scilo per salire a muovere loro guerra e figlioli di Israele mandarono i figlioli di Ruben i figlioli di Gade alla mezza tribù di Menasse nel paese di Galat Fineas figliolo del sacerdote Eleazar e con lui dieci principi un principe per ciascuna casa paterna di tutte le tribù di Israele tutti erano capi di una casa paterna tra le migliaia di Israele essi andarono dai figlioli di Ruben dai figlioli di Gade alla mezza tribù di Menasse nel paese di Galat e parlarono loro dicendo così ha detto tutta la radunanza dell'Eterno che cos'è questa infedeltà che avete commesso contro l'Idio di Israele ritraendovi oggi dal seguire l'Eterno col costruirvi un altare per ribellarvi oggi all'Eterno è la poca cosa per noi l'iniquità di Peor alla quale non ci siamo fino al dì d'oggi purificati che attirò quella piaga sulla radunanza dell'Eterno e voi oggi vi ritirate da seguire l'Eterno avverrà così che ribellandovi voi oggi all'Eterno domani egli si adirerà contro tutta la radunanza di Israele se reputate impuro il paese che possedete ebbene passate nel paese che è in possesso dell'Eterno dove è stabilito il tabernacolo dell'Eterno e stanziatevi in mezzo a noi ma non vi ribellate all'Eterno e non fate di noi dei ribelli costruendovi un altare oltre all'altare dell'Eterno del nostro Dio Akan figliolo di Zerat non commise egli un'infedeltà relativamente all'interdetto attirando l'ira dell'Eterno su tutta la radunanza di Israele tal che quell'uomo non fu solo a perire per la sua iniquità allora i figlioli di Ruben i figlioli di Gad e la mezza tribù di Menasser risposero e dissero ai capi delle migliaia di Israele Dio Dio l'Eterno Dio Dio l'Eterno lo sa e anche Israele lo saprà se abbiamo agito per ribellione o per infedeltà verso l'Eterno o Dio non ci salvare in questo giorno se abbiamo costruito un altare per ritrarsi da seguire l'Eterno se per offrirvi su degli olocausti o delle oblazioni o per farvi su dei sacrifici di azioni di grazie l'Eterno stesso ce ne chieda conto egli sa se non l'abbiamo fatto invece per tema di questo che cioè in avvenire i vostri figlioli potessero dire ai figlioli nostri che avete a fare voi con l'Eterno che è l'Idio di Israele l'Eterno ha posto il Giordano come confine tra noi e voi o figlioli di Ruben o figlioli di Gad voi non avete parte alcuna nell'Eterno e così i vostri figlioli farebbero cessare i figlioli nostri dal temere l'Eterno perciò abbiamo detto mettiamo ora mano e costruiamo un altare non per olocausti né per sacrifizi ma perché serva di testimonio tra noi e voi e tra i nostri discendenti dopo di noi che voglian servire l'Eterno nel suo cospetto con i nostri olocausti con i nostri sacrifici con le nostre offerte di azioni di grazie affinché i vostri figlioli non abbiano un giorno a dire ai figlioli nostri voi non avete parte alcuna nell'Eterno e abbiamo detto se in avvenire essi diranno questo a noi o ai nostri discendenti noi risponderemo guardate la forma dell'altare dell'Eterno che i nostri padri fecero non per olocausti né per sacrifici ma perché servisse di testimonio fra noi e voi lungi da noi l'idea di ribellarci all'Eterno e di ritirarsi dal seguire l'Eterno costruendo un altare per olocausti per oblazioni o per sacrifici oltre all'altare dell'Eterno del nostro Dio che è davanti al suo tabernacolo quando il sacerdote Fineas e i capi della radunanza i capi delle migliaia di Israele che erano con lui ebbero dite le parole dette dai figlioli di Ruben dai figlioli di Gade dai figlioli di Menasse rimasero soddisfatti e Fineas figliolo del sacerdote Eleazar disse ai figlioli di Ruben ai figlioli di Gade ai figlioli di Menasse oggi riconosciamo che l'Eterno è in mezzo a noi poiché non avete commesso questa infedeltà verso l'Eterno così avete scampato i figlioli di Israele dalla mano dell'Eterno e Fineas figliolo del sacerdote Eleazar e i principi si partirono dai figlioli di Ruben e dai figlioli di Gade e tornarono dal paese di Galad al paese di Canaan presso i figlioli di Israele ai quali riferirono l'accaduto la cosa piacque ai figlioli di Israele i quali benedissero il Dio e non parlaron più di salire a muover guerra ai figlioli di Ruben e di Gade per devastare il paese che si abitavano e i figlioli di Ruben e i figlioli di Gade diedero a quell'altare il nome di Ed perché dissero esso è testimonio fra noi che l'Eterno è Dio Giosuè capitolo ventitresimo or molto tempo dopo che l'Eterno ebbe dato requie a Israele liberandolo da tutti i nemici che lo circondavano Giosuè ormai vecchio e bene innanzi negli anni convocò tutto Israele gli anziani i capi i giudici gli ufficiali del popolo e disse loro io sono vecchio e bene innanzi negli anni voi avete veduto tutto ciò che l'Eterno il vostro Dio ha fatto a tutte queste nazioni cacciandole dinanzi a voi poiché l'Eterno il vostro Dio è quelli che ha combattuto per voi ecco io ho diviso tra voi a sorte come eredità secondo le vostre tribù il paese delle nazioni che restano e di tutte quelle che ho sterminate dal Giordano fino al Mar Grande ad Occidente l'Eterno il Dio vostro le disperderà egli stesso dinanzi a voi e le cacerà dinanzi a voi e voi prenderete possesso del loro paese come l'Eterno il vostro Dio ha detto applicatevi dunque risolutamente ad osservare e a mettere in pratica tutto ciò che è scritto nel libro della legge di Mosè senza sviarvene né a destra né a sinistra senza mischiarvi con queste nazioni che rimangono fra voi non mentovatene neppure il nome dei loro dei e non le fate uso nei giuramenti non li servite e non vi prostrate davanti a loro ma tenetevi stretti all'Eterno che è il vostro Dio come avete fatto fino al di d'oggi l'Eterno ha cacciato dinanzi a voi nazioni grandi e potenti e nessuno ha potuto starvi a fronte fino al di d'oggi uno solo di voi ne inseguiva mille perché l'Eterno il vostro Dio era quelli che combatteva per voi come Egli vi ha detto vegliate dunque attentamente su voi stessi per amare l'Eterno il vostro Dio perché se vi ritraete da Lui e v'unite a quel che resta di queste nazioni che sono rimaste tra voi e vi imparentate con loro e vi mescolate con esse ed esse con voi siate ben certi che l'Eterno il vostro Dio non continuerà a scacciare queste gente dinanzi a voi ma esse diventeranno per voi una rete un'insidia un flagello ai vostri fianchi tante spine negli occhi vostri finché non siete periti e scomparsi da questo buon paese che l'Eterno il vostro Dio va dato o ecco io me ne vo oggi per la via di tutto il mondo riconoscete dunque con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra che neppure una di tutte le buone parole che l'Eterno il vostro Dio pronunciate su voi è caduta a terra tutte si sono compiute per voi neppure una è caduta a terra e avverrà che come ogni buona parola che l'Eterno il vostro Dio vi ha detta si è compiuta per voi così l'Eterno adempierà a vostro danno tutte le sue parole di minaccia finché vi abbia sterminati di questo buon paese che il vostro Dio l'Eterno vi ha dato se trasgredite il patto dell'Eterno il vostro Dio che vi ha imposto e andrete a servire ad altri dèi e vi prostrerete divanti a loro l'ira dell'Eterno si accenderà contro di voi e voi perirete presto scomparendo dal buon paese che Egli vi ha dato Giosuè capitolo ventiquattresimo Giosuè adunò pure tutte le tribù di Israele in Sikhen e convocò gli anziani di Israele i capi i giudici gli ufficiali del popolo i quali si presentarono davanti a Dio e Giosuè disse a tutto il popolo così parla l'Eterno lì Dio di Israele i vostri padri come Terad padre d'Abramo e padre di Naur abitarono anticamente di là dal fiume e servirono ad altri dei e io presi il padre vostro Abramo di là dal fiume e gli feci percorrere tutto il paese di Canaan moltiplicai la sua progenie e gli diedi Isacco e ad Isacco diedi Giacobbe ed Esau e assegnai ad Esau il possesso della montagna di Seir e a Giacobbe e i suoi figlioli scesero in Egitto poi mandai Mosè ed Aronne e colpì l'Egitto comprodigi che feci in mezzo ad esso e dopo ciò ve ne trassi fuori trassi dunque fuori dall'Egitto i vostri padri e voi arrivaste al mare gli egiziani inseguirono i vostri padri con carri e cavalieri fino al Mar Rosso quelle gridarono all'Eterno ed egli pose delle fitte tenebre tra voi e gli egiziani poi fece venire sopra di loro il mare che li ricoperse e gli occhi vostri videro quel che io fece agli egiziani poi dimoraste lungo tempo nel deserto io vi condussi quindi nel paese degli Amorei che abitavano di là da Giordano essi combatteron contro di voi e io li diedi nelle vostre mani voi prendeste possesso del loro paese e io li distrussi dinanzi a voi poi Balak figliolo di Zippor re di Moab si levò a muover guerra ad Israele e mandò a chiamare Balam figliolo di Beor poiché vi maledicesse ma io non vogli dare ascolto a Balam egli dovette benedirvi e vi liberai dalle mani di Balak e passaste il Giordano e arrivaste a Gerico gli abitanti di Gerico gli Amorei i Feresei i Cananeli i Tei i Giger i Gazei i Vei e i Gebusei combatteron contro voi e io li diedi nelle vostre mani e mandai davanti a voi i Calabroni che li scacciarono dinanzi a voi come avevo avvenuto ai due re di Amorei non fu per la tua spada né per il tuo arco e vi diedi una terra che voi non avevate lavorata delle città che non avevate costruite voi abitate in esse e mangiate del frutto delle vigne e degli olivetti che non avete piantati or dunque temete l'Eterno e servitelo con integrità e fedeltà togliete via gli Dei ai quali i vostri padri servirono di là dal fiume in Egitto e servite l'Eterno e se vi par mal fatto servire l'Eterno scegliete oggi a chi volete servire o agli Dei ai quali i vostri padri servirono di là dal fiume o agli Dei degli amorei nel paese dei quali abitate in quanto a me e alla mia casa noi serviremo all'Eterno allora il popolo rispose e disse lungi da noi l'abbandonare l'Eterno per servire ad altri Dei poiché l'Eterno il nostro Dio è quelli che ha fatto salir noi e i padri nostri fuori dal paese d'Egitto e dalla casa di schiavitù che ha fatto dei grandi miracoli dinanzi agli occhi nostri e ci ha protetti per tutto il viaggio che abbiamo fatto e in mezzo ai tutti i popoli fra i quali siamo passati e l'Eterno ha cacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli amorei che abitavano il paese anche noi serviremo all'Eterno perché Egli è il nostro Dio e Gesù è disse al popolo voi non potrete servire all'Eterno perché Egli è un Dio santo e un Dio geloso Egli non perdonerà le vostre trasgressioni e vostri peccati quando abbandonerete l'Eterno e servirete dei stranieri Egli vi si volterà contro vi farà del male e vi consumerà dopo avervi fatto tanto bene e il popolo disse a Giosuè no no noi serviremo l'Eterno e Giosuè disse al popolo voi siete testimoni contro voi stessi che vi siete scelto l'Eterno per servirli quelli risposero siamo testimoni e Giosuè togliete dunque via gli dei stranieri che sono in mezzo a voi e inclinate il cuor vostro all'Eterno che è lì Dio di Israele e il popolo rispose a Giosuè l'Eterno il nostro Dio è quello che serviremo e alla sua voce ubbidiremo così Giosuè fermò in quel giorno un patto col popolo e gli diede delle leggi e delle prescrizioni a Sichen poi Giosuè scrisse queste cose nel libro della legge di Dio e prese una gran pietra e la rizzò quivi sotto la quercia che era presso il luogo consacrato all'Eterno e Giosuè disse a tutto il popolo ecco questa pietra sarà una testimonianza contro di noi perché essa ha udito tutte le parole che l'Eterno ci ha dette essa servirà quindi da testimonio contro di voi affinché non rineghiate il vostro Dio poi Giosuè rimandò il popolo ognuno alla sua eredità e dopo queste cose avvenne che Giosuè figliuolo di Nun servo dell'Eterno morì in età di centodieci anni e lo seppellirono nel territorio di sua proprietà a Timat Sera che è nella contrada montuosa di Ephraim al nord della montagna di Gash e Israele servì all'Eterno durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè e che avevano conoscenza di tutte le opere che l'Eterno aveva fatte per Israele e le ossa di Giuseppe che i figlioli di Israele avevano portate dall'Egitto le seppellirono a Sichem nella parte di campo che Giacobbe aveva comprata dai figlioli di Emor padre di Sichem per cento pezzi di denaro e i figlioli di Giuseppe le avevano ricevute nella loro eredità poi morì anche Leazar figliolo di Aronne e lo seppellirono a Ghibea di Phineas che era stata data al suo figliolo Phineas nella contrada montuosa di Efraim di Efraim di Efraim di Efraim Grazie a tutti